La moda e il Made in Italy ripartono da Firenze, migliaia di visitatori da tutto il mondo, 1200 brand di cui 512 dall'estero partecipano all'edizione 89 di P.T. Uomo, che si è aperta con il titolo di Generations of Makers, un gentleman senza tempo. La simultaneità di tante generazioni nella moda e negli stili, un mondo dove l'età è sempre più uno stato mentale che anagrafico. P.T. Uomo, una grande occasione per le aziende che producono abbigliamento, calzature, accessori e da non sottovalutare ad ogni edizione lo spazio occupato dall'artigianato e dall'arte sartoriale. Massiccia presenza di giovani blogger che attraverso i social network documentano in tempo reale le immagini dell'evento P.T. Uomo. Le aspettative degli espositori sono molto elevate, vista la notevole presenza di buyer internazionali che sempre più scelgono il Made in Italy.